Monastero della Madre di Dio e di San Nicola Costruito nel 1631 dal patrizio leccese Bellisario Paladini Sorge accanto al convento delle suore salesiane del Sacro Cuore appartenute in origine alle carmelitane scalze e da qui la devozione a San Nicola di Bari La chiesa è il santuario di San Filippo Smaldone Sull'altare principale infatti sono conservati all'interno di una statua i resti del santo Dalla chiesa ci spostiamo ora al convento annesso al monastero delle suore salesiane del Sacro Cuore appartenuto in origine alle carmelitane scalze a San Nicola di Bari a San Nicola di Bari Grazie a tutti.